Un nuovo progetto all'insegna di una città sempre più solidale e più attenta alle esigenze delle fasce deboli. La Onlus Gulliver in collaborazione con AIL inaugura domani un nuovo servizio di assistenza domiciliare ad anziani soli, a malati e a persone con impossibilità a deambulare. Un sollievo in azioni quotidiane necessarie ma spesso gravose, dalla spesa ai farmaci fino al pagamento delle utenze e ai trasporti. Progetto Gulliver AIL, sottolineiamo, questa collaborazione innovativa che è partita da poco. Servizio domiciliare rivolto alle famiglie in stato di difficoltà sia economica ma anche difficoltà motoria o la famiglia che ha difficoltà di relazioni. Quattro servizi, spesa a domicilio, i farmaci a domicilio, pagamento di utenza all'apposta. Quindi qualsiasi famiglia che è in difficoltà, ripeto, anche non economica ma di movimento che ha un problema che la signora Maria non può uscire di casa, chiama la Gulliver 0721 39 58 23. La mattina dalle 9 alle 12, Maria espone il suo problema alla ragazza che risponde e noi in maniera gratuita possiamo andare a fare spesa alla Maria e poi gli portiamo la spesa a casa. Se la Maria è in difficoltà economica e non riesce a far la spesa, noi abbiamo un paniere di prodotti che portiamo un pacco dono alimentare alla Maria e non paga niente. In più possiamo andare per la signora Maria a prendere le medicine in farmacia, la ricetta dal dottore, possiamo andare a pagare la bolletta della luce dell'utenza in posta, tutti i servizi gratuiti. In più se la signora Maria non riesce a pagarsi il taxi o pagare un'ambulanza per andare all'ospedale a fare delle visite mediche, un esame del sangue, ci chiama e noi gratuitamente la portiamo a fare anche la visita di un ospedale. Ripeto, quattro servizi attivi da lunedì al sabato gratuiti per la collettività, grazie alla collaborazione di AIL con Gulliver e grazie alla Fondazione Cattolica. Gulliver, AIL, Fondazione Cattolica e tanti ragazzi che saranno coinvolti grazie al servizio civile. Sì, il servizio sarà fatto da dieci ragazzi al servizio civile che saranno con noi un anno, in più da un progetto Erasmus fatto con la città di Valenza in Spagna, dove avremo otto ragazze di Valenza che saranno con noi per un periodo 3-4 mesi a seconda del caso, che andranno a fare questo servizio. Quindi ragazzi pesaresi con ragazze spagnole in giro per Pesaro con questa macchina da domani per la collettività. Progetto sperimentare su Pesaro che poi sarà largato nei comuni dell'ambito territoriale pian pianino. Un servizio domiciliare che rafforza la rete delle associazioni di volontariato che vede in questo caso l'AIL direttamente coinvolta sull'onda di anni di esperienza nell'assistenza domiciliare. L'AIL viene coinvolta in una maniera più semplice. Abbiamo donato il mezzo per poter fare in modo che la Gulliver possa effettuare questo servizio a domicilio. Come diceva prima Andrea, il presidente, speriamo che non sia solo il primo, ci sia un secondo mezzo, un terzo mezzo, un quarto mezzo in modo che, perché questo vorrà dire che questo progetto della Gulliver diventa sempre più grande ed è quello che ci auguriamo un po' tutti quanti.